con Orta Diatella dove la nostra inviata Claudia Margio ci farà un resoconto dettagliato sull'evento dell'anno la laurea di Assuntina Esposito Dottoressa Margio ci racconti com'è andata? Qua ditti! E' scassato! Da Orta Diatella è tutto, a voi da lì! Grazie a tutti! Just some, one that starts, starts the sparking up on our hearts Aguri Bisco! Tanti auguri! Congratulazioni per la tua laurea, un bacio da parte di voi Di diranno che c'è crisi, che tutto ci leva contro che bisogna arrangiarsi, adattarsi, crederci non è così, è peggio Ciao Diti! Ciao! Congratulazioni per la laurea Che cazzo di cose mi vuoi fare i video? Vabbè comunque auguri Tina! E questo è soltanto uno dei tantissimi traguardi che sono sicura raggiungerai perché sono una persona determinata, capace, intelligente e che non si arrende male C'è una Tina che può rompere Oh my god! Oh my god! Auguri Tina! Hola amica, come stai? Un poco lo spazio di alcuni, come stai fra lui, come stai fra te! E da un piano! Un avvocato! C'è solo un avvocato! Un avvocato! Come sempre, diciamo, la capa tosta di Rocetta, ho letto bene sulla decisi, è scritto ASSUNTA! Ho scritto ASSUNTA, quindi gli devo fare auguri ad ASSUNTA! E anche questa volta c'è il punto che trovi adattivo, come sempre, nella vita. Guardi, guardi, guardi. Guardi, guardi! Gli auguri ti arrivano da Granada, sono fuori la cattedrale, congratulazioni! Ti raccomando, auguri! Ciao, qualche città! Brava! Ciao, auguri! Un bacione, sempre pure ancora! e spero che ti sia divertente questa serata per te e ancora auguri e sempre a vero tanti tanti auguri